Ti mancava questa postazione? Certo, certo. Vai, racconta. Due gol, il primo con il tuo classico movimento, il secondo dal dischetto, il ritorno di Davide Meron. No, 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 sono molto contento per la doppietta, ma sono contento per la squadra, per lo spoiatoio, perché comunque c'è, tira una bella aria, siamo partiti forti anche questa partita. In campo siamo concentrati, siamo tutti corti e così le cose diventano più facili. Il primo gol, vai, raccontaci. Sì, ho visto la palla di Matteo, di D'Agasso, mi sono sfilato dietro, ho fatto l'anticipo sul difensore, poi ho preso il palo, sono stato anche un po' fortunato col portiere che era lì sulla linea e l'ha tirata dentro e sono contento. Non ci vediamo da un po', e allora ne approfittiamo Davide per raccontare questa tua lunga e difficile estate. Vai. Ma, ti dico, difficile non penso, perché comunque io sono rimasto qua. No, ma io intendo dal punto di vista fisico, poi sui contratti ci arriviamo tra un po'. No, 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 dal punto di vista fisico sì, sono stato male, ho fatto un'operazione per la pubalgia, finalmente ora sto bene, ancora non al 100%, però con gli allenamenti del mister ci arriverò presto. e ho sofferto un po', perché comunque non fare quello che ti piace ti fa stare male, però anche la squadra mi è stata vicina, comunque anche quando loro erano in ritiro a Palena li ho sentiti tutti, sono contento, anche lo staff mi è stato sempre vicino e sono contento di essere tornato. Quanto è stato difficile dire no ai tanti soldi che ti erano stati proposti da società di pari categoria, non è un segreto dire Catani e Trapani. Sì, sì, c'era l'interesse, come sanno tutti, però c'era anche l'interesse a rimanere qua, se dovevo cambiare Serie C per Serie C. L'avevo detto già al procuratore che in caso devo andare via solo per una categoria superiore, non lo nascondo. Per fortuna sono rimasto qua, i risultati si stanno vedendo e ora che sono tornato mi godo il momento. Posso fare una domanda difficile? Se dovesse arrivare la B, la richiesta della B a gennaio e questo pescare lì su in cima alla classifica? Il resto è in cima alla classifica. Questa mi sembra una bellissima risposta di Davide Merola, un attimino solo perché do l'auricolare a Davide Merola così vi può ascoltare. Qui non c'è l'auricolare, allora devo girare io la domanda a Davide Merola, vediamo se... eccolo qui, a posto, l'abbiamo ritrovato. Vai Davide, vi ascolta. Complimenti intanto a Davide Merola per il ritorno al gol. Fabio Ferraresi. Io mi accodo, ho sempre detto, non è che lo scopriamo stasera, che secondo me è il giocatore più forte di questa rosa. Volevo chiedere a Davide, coseno di poi l'infortunio magari ti ha precluso qualche squadra che ti poteva chiamare dalla Serie B e adesso magari sei contento di rimanere visto come sta andando l'annata? Sì, diciamo che l'infortunio magari ha inciso anche un po' sul mercato, però io dovevo farlo perché era l'unica finestra dove potevo farlo, ne ho approfittato, però come ho detto io sono rimasto qua, qua mi trovo benissimo, la città mi vuole bene, in spogliatoio ci divertiamo giorno per giorno e cerchiamo di fare qualcosa di importante. Davide ti salutiamo, così possiamo dire che la stagione di Davide Mero l'ha iniziata il 27 ottobre al Port Elisa? Certo.